Abbiamo parlato di soluzioni di adattamento per le imprese, abbiamo parlato del mindset, cioè di come prepararsi mentalmente, lo sport può aiutare a superare condizioni difficili, impreviste e repentini cambi di scenari e di questi giorni la diffusione delle grafiche della Westlands Bay Solution a cui abbiamo contribuito, che mettono in evidenza un dato che già si sapeva, che era quello dell'avanzamento dell'acqua per via di diversi fenomeni che non so spiegare, però sostanzialmente riscaldamento globale, espansione termica e tante altre cose. Cagliari, il Golfo di Cagliari e il Golfo di Oristano sono tra le due zone nel Mediterraneo e in Sardegna tra le più colpite e l'acqua avanza, nell'oristanese avanza da qui a 80 anni, quindi molti di voi ci saranno ma anche meno, abbiamo fatto una proiezione decennio per decennio di come l'acqua avanzerà in centimetri fino ad arrivare a 84 centimetri, quindi 840 millimetri entro il 2100, questo vuol dire poco meno di un metro e quindi grandi danni e grandi perdite. Le imprese si adeguano e le zone umide sono zone di transizione importantissime che riescono a raccogliere quest'acqua, filtrarla e allo stesso tempo sono le zone nel pianeta che ricoprono superficie di più o meno del 6% e raccolgono il 35% della CO2 sulla superficie terrestre che è la maggiore responsabile del riscaldamento globale. Quindi finalmente per gli stagni e le lagune che negli ultimi 100 anni sono state distrutte, bonificate e degradate perché erano ambienti, venivano considerati ambienti malsanni, è arrivata l'epoca del riscatto. Noi sulle zone umide con il progetto Maristani insieme alla Fondazione Mezzì e i comuni dell'Oristanese stiamo lavorando proprio per la valorizzazione, il ripristino e per dare una gestione integrata in una forma come appunto un parco, ma anche stiamo facendo altri progetti come quello di transformare qui la presente collega Francesca Ezzi, responsabile tra i responsabili di progetto che ci racconta cosa stiamo facendo proprio per prevenire e tutelare la parte economica di cui poi oggi abbiamo parlato abbondantemente. Prego. Grazie Giulia. Non mi soffermo insomma sull'importanza del Golfo di Oristano nel Mediterraneo appunto per la forte presenza di zone umide perché Giulia ha fatto un quadro abbastanza completo di quello che insomma sono gli aspetti più importanti. Passerei direttamente a parlare di quelle che sono le attività progettuali che stiamo portando avanti con la Fondazione Mezzì e in particolare con il Comune di Terralba per la zona umida di Marce di San Giovanni quindi appunto nel Comune di Terralba. È una zona umida che è un golfo marino vuoi mandare le slide? Ah ok. Ah ok. Appunto è un golfo marino che è abbastanza profondo e come vediamo da questa immagine è zonizzato per la presenza di manufatti artificiali che sono stati costruiti nell'ultimo secolo. In Magenta si può vedere il ponte di Marce di che in realtà non è un ponte stradale nasce come un'infrastruttura a servizio dell'attività di pesca e poi si è trasformato sempre più in un'infrastruttura vera e propria che separa la zona di mare dalla zona umida. Questo per gli aspetti ambientali della laguna è stato un problema, ha creato una diminuzione della connessione appunto di scambio idrico tra il mare e la laguna enfatizzando alcune problematiche. Inoltre in giallo invece vediamo un'altra infrastruttura che è stata costruita che è l'argine interno che separa la zona di foce nell'immagine a destra, quindi la zona di foce del rio Mogoro e del Fluminimanno dallo stagno di San Giovanni. Quindi abbiamo due corpi, tre in realtà idrici particolari, due specchiacqui, la zona di Marcedì, la zona di San Giovanni e la zona di foce. Il funzionamento chiaramente doveva andare a migliorare le condizioni idriche e le condizioni chimico-fisiche adatte per l'attività di pesca, che era l'attività più importante che si svolgeva all'interno della laguna e si svolge tuttora. Però queste infrastrutture chiaramente nel tempo, per la poca manutenzione, per le condizioni climatiche che si sono modificate nel tempo, ovviamente hanno portato una serie di problematiche che vediamo nella slide successiva, Giulia, appunto sono una bassa circolazione dell'acqua, sia dalla zona di foccia attraverso la zona umida, verso mare e anche viceversa, che ha portato anche a enfatizzare alcune problematiche come le condizioni di salinità dell'acqua, che sono molto importanti per le tipologie di pesca e di acquacultura che vengono fatte all'interno di questa zona umida, con degli effetti diretti sulla riduzione proprio degli stock di pesca. oltre ad altre, insomma, problematiche quali possono essere la bassa connessione ecologica, la perdita di biodiversità e di specie che, insomma, popolano la zona umida. Spieghiamo che spesso, magari usiamo termini tecnici, stock di pesca, proprio il pescato, quindi sostanzialmente quello è il rischio. Esatto. Nelle immagini, vedete, nelle due foto, diciamo, a destra, vedete una foto dell'argine interno, quella più in basso, mentre quella in alto sono le zone di apertura, dove l'argine in realtà ha delle brecce, per cui l'acqua dolce che proviene dai fiumi fluisce direttamente dentro la laguna, creando, provocando, quindi, un abbassamento della salinità che è assolutamente negativo per la pesca. Quindi, quali sono le possibili soluzioni? Ecco, il Comune di Terralba con la Fondazione Medici stanno portando avanti numerosi progetti, quattro in particolare, due derivano da fondi europei e regionali e sono gestiti proprio dal Comune di Terralba e riguardano prevalentemente l'infrastruttura di cui abbiamo parlato prima, che separa il mare dalla laguna, che è un intervento prevalentemente infrastrutturale, e permetterà però di creare delle brecce nella parte inferiore, che attualmente risulta chiusa, per, diciamo, migliorare la permeabilità tra mare e laguna. Dall'altra parte, l'altro progetto riguarda invece l'argine interno. Il progetto prevede la chiusura di più punti per permettere la circolazione dell'acqua dolce verso la zona di mare. Congiuntamente si fanno degli interventi sulla parte, diciamo, di miglioramento della circolazione dell'acqua dalla parte dei canali che vediamo indicati con le frecce blu e anche un rafforzamento della zona ripariale intorno allo stagno attraverso la messa di mora di nuove specie proprio per la creazione di una zona buffer tra la zona, diciamo, più agricola e la zona... La zona coscinetta. Esatto. La zona coscinetta, per ragione. La zona coscinetta di protezione. Assolutamente. Mentre invece con i due progetti che la Fondazione MTSI sta portando avanti, che sono il progetto Maristanis e, come hai citato giustamente, il progetto Transformar, che è un Horizon 2020, un progetto europeo, aggiungiamo una componente, diciamo, più tecnologica. Quindi non basta fare gli interventi infrastrutturali, non basta, diciamo, creare le condizioni al contorno perché questo sistema funzioni, ma è necessario anche monitorarlo e trovare delle soluzioni che siano di adattamento alle condizioni climatiche e di eventi che possono capitare per cui la laguna si può adattare. Questo lo facciamo attraverso il posizionamento di sensori che misurano parametri di qualità dell'acqua, attraverso il posizionamento di un mareografo piuttosto che di un idrometro e con soprattutto il posizionamento di paratoie, che non sono altro che delle porte che si possono alzare ed abbassare, delle barriere che si possono alzare ed abbassare, a seconda delle caratteristiche degli eventi, insomma, meteorologici, plurviometrici che insistono sulla laguna. Chiudo con, visto che oggi parliamo soprattutto di attività produttive, il consorzio di pescatori Marcedì è un consorzio che raggruppa 140 pescatori. L'attività di pesca è un'attività importantissima e non si possono portare avanti delle iniziative che mirano soltanto alla salvaguardia dell'ecosistema o della biodiversità senza tenere presente e in forte considerazione quelle che sono soprattutto le esigenze di chi quelle lagune le vive in maniera diretta. Questo è stato fatto, è stato portato avanti con un intenso dialogo con i pescatori del consorzio che hanno aiutato a sviluppare le soluzioni progettuali. Non ultimo si terrà a metà ottobre un incontro con loro proprio sul tema dell'adattamento climatico e quindi gli scenari per la loro laguna e anche le possibili soluzioni e soprattutto quello che col progetto Transformar faremo è cercare di coinvolgerli anche nella fase di monitoraggio quindi durante proprio la raccolta dei dati. Sì, grazie Francesca. Alla fine è potenziamento delle difese naturali con stagni, lagune, zone unide in prima linea, tecnologia, però chiaramente un occhio alle comunità che possono in qualche modo orientare questo processo di cambiamento che non è poi semplicissimo perché poi chiaramente richiede expertise, professionalità e tutto il resto. Grazie mille. Adesso passo la parola a Alessio Sata il presidente della fondazione Mezzi per una parte più internazionale di chiusura state qua perché abbiamo l'aperitivo praticamente in dieci minuti e abbiamo il piacere di conoscervi di sapere i vostri progetti le vostre attività